Il pellegrino, il nome di questa nuova casa editrice, voluta dai gesuiti, non spiega solo la sua natura, la ragione d'essere, ma indica la tendenza, il desiderio di viaggiare in quella terra di confine tra sensibilità, quella dei credenti, quella di chi è alla ricerca e infine di chi non crede neanche più sia necessaria quella ricerca lì. L'impegno etico è la base e il mercato è probabilmente anche la sfida un pochino più ostica. Siamo persone che hanno lavorato nell'editoria anche non religiosa, per esempio nel mio caso, per anni e quindi le difficoltà che il mercato sta affrontando ormai già da un po' di tempo le conosciamo. Siamo però sicuri che come tipo di sfida stiamo andando incontro probabilmente a parte del mercato ad un vuoto. Un vuoto da riempire affrontando i grandi temi del tempo presente, convocando voci, stimolando coscienze, riaprendo perché no anche delle porte rimaste socchiuse o serrate con un progetto che per ora conta 25 titoli per il primo anno. Ed ecco nelle primizie. I nostri testi sono a cavallo tra cultura laica, cultura credente eccetera. In particolare una narrative non fiction che è quello di Alex Marr, autrice americana, che racconta la storia di Paola Cooper, una storia che oltretutto con i temi della pena di morte che stanno ritornando anche in auge oggi, torna ad essere importante e parlante anche sul mercato. Poi avremo una rilettura di molti capolavori contemporanei da parte di Lorenzo Fazzini. Questi sono i primi, poi avremo il testo di Papa Francesco delle preghiere in preparazione per il Giubileo. Un festival che si espande, che diffonde occasioni di riflessione, approfondimento, di intrattenimento culturale per tutto l'anno. Accade tutto questo ad Umbria Libri che diventa così Umbria 365, una sfida ambiziosa, un calendario che non sia soltanto un susseguirsi di giorni. Libri tutto l'anno, 365 giorni, in un'iniziativa che vuole espandersi in Umbria appunto nel tempo, tutto l'anno e nello spazio, non solo i due capoluoghi di regione. Lo scorso anno con Umbria Libri abbiamo messo in piedi il bando per lo scrittore residente, sette scrittori sono andati in altri tanti borghi umberi, lasciando in dono un racconto ambientato in quei luoghi. Quest'estate abbiamo in cantiere delle altre iniziative, sul lago Trasimeno, nella zona di Amelia e Narni. E poi man mano ci espanderemo per fare cosa di Umbria Libri, l'istituzione culturale della regione che si occupa di scrittura, non solo di libri. La scrittura è poesia, è letteratura, è podcast, è recitazione, è teatro, è musica, è composizione e tante cose. Quindi si diversifica molto l'offerta? Sì, perché di festival è pieno, di feste della cultura, dove un pubblico, mi auguro attento e partecipativo, si ritrova all'interno di un cartellino dove trovi di tutto, appunto, dalla musica, la poesia, la letteratura, nel caso di Umbria Libri Lava anche degli psicologi che in delle classi ti spiegano le emozioni, i sentimenti, le paure, le malattie del lavoro. Credo che sia un tratto distintivo di questa iniziativa che appunto dura tutto l'anno. Quindi è un grande laboratorio.